Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e DAIE ragazzi, tenete duro che oramai ci siamo! Mancano davvero pochissime ore a tutti gli aggiornamenti che non vediamo l'ora di vedere per questi giorni finali della season numero 9 di Fortnite! Oggi ragazzi voglio parlarvi di alcuni argomenti molto interessanti e ahimè anche abbastanza tristi! Il primo ragazzi è il ritardo nella patch 9.4, una battosta arrivata dal nulla ragazzi e praticamente quasi confermata dalla stessa Epic Games, non sembra essere oggi la patch 9.4 ma dovrebbe essere rimandata a giovedì! Vi farò sapere come mai di questa scelta e ovviamente l'ultima fase del robot! Tutti stiamo aspettando la testa, tutti la vogliamo vedere, potrebbe anche non essere l'ultima fase in realtà ma forse qualcosa è già stato spoilerato, vi farò vedere e modifiche ragazzi alla modalità Arena Trios ritorna nonostante si pensasse fosse un solo evento in trio con delle modifiche le vedremo ovviamente insieme! Prima però voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator XIODERONE grazie di quale ragazzi per sciopazzare di prepotenza nello shop mi raccomando, dov'è? Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Ma prima è la domandina! Ve la devo fare, ci tengo raga! Mi rispondete sempre in tantissimi alla domanda, vi voglio bene ragazzi! Domanda di oggi, davvero molto interessante! Qual è la tua parte di mappa preferita? Non sto parlando di città, non sto parlando di... Sto parlando di la porzione della mappa che ti piace di più! Se vuoi dire una città, va bene una città! Ma la cosa che non puoi dire, ma che storia! Ragazzi, sarò nostalgico, dite quello che volete, ma secondo me il capolavoro nella mappa l'hanno fatto con la voragine che purtroppo adesso è coperta e riempita di alberi e tutto allo sfacelo, ma guardate che l'orizzonte che si vedeva dal punto più alto avanti a voi quando si giocava nella season 4 con la voragine di sprofondo stantio era un qualcosa di meraviglioso! Secondo me si sono superati e tuttora rimane la mia parte preferita della mappa! Ma quindi! Ciancio alle bande! E vanno alle ciance! Andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo argomento di oggi che non è altro che sempre lui, il mostro! Ragazzi, ci sono delle modifiche importanti! Vi faccio vedere questo video, guardate che storia! Comincia ad essere sempre più vicino alla costa il mostro! Questa è una clip presa poche ore fa, come vedete molto molto più vicino! Non c'è neanche bisogno di zoomare per vedere quello che sta accadendo! Lo vedete là in alto che si muove bello fresco come una rosa con il suo castello di picco polare sulla schiena ragazzi! Il mostro man mano che passano le ore si avvicina sempre di più alla mappa! E questo fortifica ovviamente tutte le teorie ragazzi della possibile distruzione di questa povera mappa! Perché ragazzi vi ricordo che oltre al mostro che si avvicina si avvicina anche la parte finale del robot! Quella che potrebbe essere la parte finale! Insomma sappiamo che c'è ancora un pack criptato nei file di gioco ed è quello ovviamente inerente la testa! Un altro pack criptato come vi avevo detto è quello invece inerente alla skin Baobross! I quattro fratelli epici che purtroppo ancora non sono arrivate! Ma se noi andiamo a vedere ragazzi la schermata, il puzzle dei Fortbyte, quello che ci viene detto con tenere il segreto della Season 9 guardate un pochettino dove vi zoomo ragazzi! È molto interessante la parte di sinistra! Voglio farvela vedere un pochettino più zoomata! Sembrerebbe che ci sia, cioè sembrerebbe! C'è una testa di orsacchione ragazzi! E se vi ricordate questa porzione del puzzle è proprio relativa all'impianto a pressione e se guardiamo ancora più attentamente sembra proprio che ci sia una gru che posi la testa di un orsacchione gigante! Nel senso potrebbe essere proprio questa ragazzi la testa che stiamo tutti aspettando e che completerà il robot! Tra l'altro per i giocatori di Save the World abbiamo in Save the World proprio il robot gigante che è un orsacchione e che spara di prepotenza! Magari il robot sarà veramente così! Andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento e parliamo del ritardo della patch! Dobbiamo andare fino in Brasile per scoprire questa cosa su un blog brasiliano dove dice The next Fortnite update is most likely on Thursday! Quindi la nuova patch non sarà martedì ma molto probabilmente giovedì perché ragazzi Fortnite sta modificando in Brasile gli importi dello shop dei V-Bucks non sarà più in dollari americani ma sarà in RAIS il RAIS è la moneta ufficiale del Brasile questo ragazzi starebbe anche giusto con l'idea della patch di giovedì perché intanto qua si vede tutta l'altra parte come vedete qua sotto ci sono gli importi modificati con i V-Bucks perché il 17 accadrà questa modifica che ci sarà per davvero per i brasiliani e il 18 essendo giovedì molto probabilmente arriverà la patch quindi ragazzi dobbiamo avere ancora un po' di pazienza e devo dirvi che abbiamo aspettato un mese prima di poter vedere l'update questa cosa succede sempre due volte l'anno ad agosto cioè nelle vacanze estive e nelle vacanze natalizie quindi ragazzi abituiamoci all'idea e aspettiamo la nostra pace ma proseguiamo ragazzi con il prossimo argomento che è la modalità trio l'avete giocata molti di voi l'hanno giocata spero che anche altre tanti siano riusciti a qualificarsi ma ci sono stati comunque dei problemi ci dicono direttamente dal blog di Fortnite lo scorso weekend la prima Fortnite Trios Cash Cup è andata abbastanza bene ma ci sono stati dei riscontri da parte dei giocatori il problema più grande è che non venivano droppati i materiali che sarebbero dovuti essere droppati al momento della kill di un avversario quindi si sono accorti quelli di Epic Games che mentre cercavano di fixare questo problema hanno beccato altri problemi relativi a delle kill che non riuscivano cioè come spiegare colpi che non entravano colpi che passavano attraverso i muri e hanno deciso ragazzi di eliminare l'opzione del drop dei 50 materiali questo però ci permette di avere una seconda fase dell'arena Trios che verrà fatta esattamente il 21 luglio ragazzi quindi potete provarci di nuovo vi ricordo che ci saranno poi delle qualifiche i qualificati andranno a fare l'evento dal vivo e c'è davvero davvero da divertirsi un game che stravolge completamente i ritmi del gioco perché siamo stati abituati alle duo alle squad però in trio è davvero tanta tanta roba ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento l'ultimo quello che chiude il nostro video di oggi ed è proprio quello che sembra essere l'evento in sé ne abbiamo anche parlato ieri ma sul web impazzano le teorie e questa è una delle più probabili questo ragazzo dice più che altro è stata ripostata e ha preso una fucilata di like io penso che il robot durerà non più di 60 secondi quando si scontrerà con il mostro vi ricordo io sarò in live questa season lo voglio vedere insieme a voi l'evento saremo in live e quindi da lì nel cielo apparirà ragazzi il we want you che tra l'altro è l'unico cartellone nell'evento del dogus che non è ancora stato presentato in game ufficialmente quindi saremo noi ve lo ricordo molto probabilmente a dover killare il mostro e a salvare la nostra isola di fortnite io vi ringrazio ragazzi tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao ciao